Sono iniziati a Pordenone i lavori preliminari per costruire un nuovo edificio scolastico adiacente al liceo Grigoletti. Sarà una cosiddetta scuola a polmone e a spiegare cos'è il sindaco Alessandro Ciriani. Questo è un progetto di cosiddetta scuola a polmone. All'interno del piano di 26 milioni di euro presentato dalla regione l'altro giorno insieme al comune, 26 milioni di euro che riguarderanno gli istituti superiori del comune di Pordenone, rientra anche questo edificio, il cui scopo è quello di dare spazi alle scuole che saranno oggetto di quei lavori, quindi le aule magari non potranno essere utilizzate, e di evitare quella transumanza che ogni anno capita dipendentemente dal numero iscritto che ha una scuola. Magari una scuola ha 300, faccio un numero a casa, di studenti di capienza, quell'anno ce ne sono 350 e ogni volta bisogna trovare una sistemazione provvisoria. In questo caso è una scuola che si verrà proprio a distribuire ai ragazzi o in eccedenza dagli istituti o che non possono frequentare quella scuola perché è oggetto di lavori di ristrutturazione. Quindi è una cosa molto importante, 8 milioni di euro investiti all'interno dei 26. Il nuovo edificio sorgerà vicino al nuovo cavalcavia ciclopedonale e avrà quindi il vantaggio di essere servito da questa nuova struttura.